Sui leggings di ieri a Gambirasio sarebbero stati ritrovati i fili di stoffa del sedile del furgone del suo presunto assassino Massimo Bossetti. La svolta è arrivata dopo mesi di indagini, di analisi minuziose, tra polveri e tessuti. Le ultime analisi dei RIS di Parma non sembrerebbero lasciare più dubbi. Dopo il DNA di Bossetti rinvenuto sugli slip e i leggings della giovane, ora ci sarebbe anche quest'altro importante elemento che per la pubblica accusa inchioda senza esitazione il muratore di Mapello. È un'altra prova reggina che l'accusa cercava da tempo. Il 26 novembre 2010 dunque Iara sarebbe salita sul furgone di Massimo Bossetti in Iara di ciò che potesse accadere. Una prova da aggiungere alle altre, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, da tempo in mano agli inquirenti del camioncino bianco di Bossetti vicino alla palestra di Brembate, frequentata da Iara e confermato anche dalla testimonianza di un passante. Bossetti è in carcere dal 16 giugno scorso e continua a professarsi innocente, eppure pochi giorni fa la perizia sul suo computer ha rivelato agli investigatori quell'ossessione per le ragazzine 13 anni rosse. Il muratore di Mapello insiste e respinge le accuse. La relazione di 133 pagine, consegnata dai consulenti al PM Letizia Ruggeri, è letta attentamente dal GIP, che per questo motivo ha rigettato la seconda istanza di scarcerazione, presentata dai legali di Bossetti, svela dettagli significativi. Ed ora pochi giorni dalla chiusura delle indagini, i dati scientifici sono due, il DNA prima, il tessuto del sedile del camioncino, ora l'ennesimo colpo di scena di una pagina, di un omicidio, che lascia ancora tante domande senza risposta.